E' giunto il momento. Tutti se ne sono andati, come previsto. Io ti avevo avvisato. Gli umani sono fatti così. E' il momento di mandare il messaggio. Ma cosa pensi di fare? Pensi che qualcuno ascolterà? So che è da stupidi, ma ho fiducia nell'umanità. In queste persone non può esserci solo male. In qualcuno vedo una speranza. So che c'è. Se ne sei convinto tu? Io ti ho già avvertito una volta. Rischi di cancellare te stesso così. Fa attenzione. Ho già fallito con molte persone. Non commetterò gli stessi errori. Non hai ancora capito che nessuno può salvarti? Se dovessi fallire anche questa volta, dovrai rientrare. Tu non appartieni a questo mondo.